Grave incidente per Diego Tavani, ex Ida Platano, cos'è successo, come sta? Uomini e donne, Diego Tavani ha avuto un terribile incidente, il drammatico annuncio. Il drammatico annuncio. Il drammatico annuncio. E poi il miracolo. Guardi su e capisci che qualcuno, per centimetri, ti ha salvato. L'ex protagonista di Uomini e donne ha poi tenuto a rassicurare tutti sul suo stato di salute, asserendo che a parte la tanta paura e i forti dolori su tutto il suo corpo dovuto alla grande botta sta bene fortunatamente. Ha poi colto la palla al balzo per ringraziare davvero di poter continuare a vedere suo figlio crescere. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso ancora posso vedere mio figlio crescere. L'uomo al momento ha preferito non fornire dettagli su questo gravissimo incidente. Raimondo Todaro molto preoccupato per l'ex cavaliere di Uomini e Donne, ti vogliamo tutti bene. Si segnala che ovviamente Diego Tavani è stato sommerso su Instagram da messaggi di affetto dei suoi numerosi follower e dei suoi affetti più cari dopo essere venuti a conoscenza di questo terribile incidente per cui per poco non ha perso la vita. E tra coloro che hanno voluto fargli sentire la propria vicinanza in questo complicato momento della sua vita c'è anche il professore di ballo di amici di Maria De Filippi, che ovviamente gli ha fatto un grosso in bocca al lupo per tutto. Bro, come stai? Ti vogliamo bene, dai. Diego, oltre ad aver partecipato a Uomini e Donne, è un commerciante. Di fatti quest'ultimo da tempo gestisce un bar tabacchi nella città capitolina. In passato ha anche giocato a calcio ricoprendo il ruolo di portiere.